allora questa è la mia postazione di lavoro a maglia questa è la mia poltrona qui c'è una sorta di sciarpona scialle che utilizzo da mettere sulle spalle quando fa particolarmente freddo mentre qui invece c'è una copertina che metto sulle gambe non sempre in realtà perché nonostante questa sia una stanza piuttosto fredda quando siedo su questa poltrona ora qui sono stata parecchio seduta su questa poltrona oggi perché ho fatto sono andata avanti con il mio con il mio maglione quindi è un po schiacciata la pelliccetta sintetica che ho appoggiato qui questo cuscino che è un cuscino che molti riconosceranno perché è un cuscino Ikea in realtà io non lo tengo lì in quella posizione quando lavoro perché mi darebbe fastidio dietro la schiena così la poltrona è molto comoda non ha bisogno di supporti ma lo metto direttamente sulle sulle ginocchia sulle gambe perché allora io lavoro con la tecnica continental e che prevede appunto di tenere braccia e spalle rilassate il lavoro si tiene in grembo e si lavora con il filo a sinistra perlomeno questo è il modo di lavorare per destrorse quindi però per una questione anche proprio di vista più più che di comodità perché mi trovo bene anche a tenere il lavoro in grembo così preferisco comunque rialzare un pochettino la posizione del lavoro appoggiandolo sul cuscino è un cuscino non particolarmente spesso però insomma neanche completamente piatto e mi aiuta appunto a sostenere un pochettino il lavoro in modo che riesca a vederci meglio attualmente è il mio lavoro che è qua sotto adesso non riesco a tirarlo su è un maglione fatto appunto con i ferri circolari il top down continental una maglia rasata semplicissima con un collo prevedo di fare vabbè il collo è un collo a coste uno a uno e probabilmente sarà così anche il polsino della manica e il fondo del maglione vedremo per adesso non lo tiro su perché con una mano sola temo di fare danni e magari domani o un altro giorno con più luce in una postazione un pochino più comoda mostrerò il lavoro che non è niente di che perché io sono le prime armi quindi e questa è un'altra lampada molto bella purtroppo quelle piantine le piante delle monete cinesi non non amano questa postazione ecco questa è la lampada che io adoro purtroppo in in video non rende perché sembra bianca con degli inserti in realtà a tutto un altro colore ecco così si si apprezza meglio il colore di questa lampada questo è un profumo che tengo qua perché è un profumo estremamente gradevole di gloria Vanderbilt Giardin a New York e ogni tanto me lo spruzzo quando ho voglia di sentire un odore confortevole piacevole non invadente anche abbastanza fresco e ma eventualmente ne parleremo meglio anche di questo profumo e lo lascio lì un profumo che ho trovato da Action che è una catena di negozi a 9 euro nel caso qui su questo che è uno sgabello ma per me un tavolino del lavoro tengo questa fascia che ho realizzato ai ferri tutta appunto legaccio con dei rimasugli e poi ho cucito quando stavo imparando appunto a lavorare con la tecnica continentale ho voluto provare a fare questo rettangolo questo è un rettangolo fatto tutto appunto legaccio quindi tutto dritto lavorato in piano quindi non in tondo e poi cucito qua con la tecnica delle due c poi qui abbiamo un sotto sotto tazza per quando mi porto il tè caldo qui dentro ci sono i ferri circolari piccoli per i calzini questi che ho già provato e quelli che sono veramente minuscoli anche questi sono piccini poi questo sacchettino di tela di tiger poi qui abbiamo dei fermacavi e poi qui abbiamo degli anelli che ho preso degli anelli nel reparto bigiotteria di un negozio cinese che io uso come marca punti e queste sono delle fettine di sughero di un tappo di sughero che io uso come ferma fermacavi perché non ho i fermacavi originali di questa marca qui purtroppo non si trovano più questo qui è un meraviglioso kit di iaia sempre che si pronunci così che contiene appunto i ferri circolari intercambiabili eccoli qua ma ne manca un paio che quello che ho in uso per il maglione questi qui sono quelli large ma il formato sharp quindi quelli più appuntiti con i quali mi trovo benissimo ora non so aprire tutto qua dentro ci sono i gommini per chiudere gli aghi e collegarli alla ai cavi e in questa taschina qua dietro ci sono i cavi eventualmente anche questo qualora fosse interessati si può vedere in un'altra occasione un pochino più comoda con una luce migliore ciao ciao